ciao ragazzi benvenuti da Fresh Farm sta piovendo e noi abbiamo un sacco di coraggio vi presentiamo tutta e dico tutta la gamma ride 2020 2021 da uomo da donna quelle da bambino no perché i bambini ci sono antipatici stiamo scherzando bene andiamo modello per modello tolgo i cosi ride compact è una tavola secondo me molto ben riuscita un entry level tutto fare diciamo dedicato un pochino più all'all mountain grazie alla micro direzionalità che ha hybrid rocker quindi micro camber centrale con rocker in punta e coda per avere controllo ma facilità di manovra dedicata alle ragazze che stanno magari cominciando stanno consolidando la tecnica e non vogliono spendere un esagerazione la compact secondo me è sempre una bellissima opzione da tenere da tenere in considerazione grazie anche alla base estrusa bella robusta non ha dei grandissimi costi di manutenzione di mantenimento perché è veramente facile da riparare le impact plates insieme agli slime malls garantiscono un riding abbastanza morbido e molto controllato il camber comunque molto molto basso quindi da una sensazione di grande superficie d'appoggio di grande sicurezza e quindi è perfetta anche per affrontare magari le prime giornate sulla neve o per imparare qualcosina di nuovo nelle giornate delle seconde giornate sulla neve ride compact quindi approvatissimo ciao